Siamo tornati! E non chiedermi dei miei pantaloni! Oh, so cos'è successo ai tuoi pantaloni! L'ho visto adesso al notiziario! Al notiziario? Ma chi ha registrato il video? Beh, sono stato io! L'invisibile Brad! Presto, distruggilo! Mira i suoi occhiali! Ok! Dove sei, Brad? Ha ha, mancato! Accidenti! No, sono qui! Ho mentito! In realtà sono qui! Ah, credo che sia lì! Mancato di nuovo! No, è di là! Mancato! Il pavimento è scivoloso! Grazie, Jasper! Queste le prendo io! Oh, da! Ha rubato le nostre pistole! Già, le ho rubate! Le ho rubate, che forza! Beh, è la mia battuta! Sì, beh, adesso è la mia! Ok, Brad, che cosa vuoi? Che mi facciate tornare visibile! Ci abbiamo provato! Questo non è possibile! Ma è colpa tua se sono invisibile! Lo so, e ti ho chiesto scusa! Non è abbastanza! Ah, Brad ha preso i miei pop-corn! Allora, a meno che non mi rendiate visibile, pubblicherò altri imbarazzanti video ogni singola ora! Cosa? Come? Vi ho seguiti con la mia telecamera invisibile! E voi, pagliacci, non ve ne siete accorti! Oh, magari stai mentendo! Ah, sì? Allora perché non andate a controllare il mio canale YouHooTube? Oh, no! Ho un canale YouHooTube! Sarà meglio dare un'occhiata! Il brufolo sul sedere di Capitan Man! No, no! Il mio brufolo, no! Andiamo! Premi play! Coraggio! Mostra al dottore il tuo brufolo! No! Mi sento in imbarazzo! Abbassa i tuoi main pantaloni e fammi vedere il brufolo! Ah, d'accordo! È sul sedere! Aspetti, mi faccio vedere! Adoro questo video! E va bene, Brad! Quanti altri imbarazzanti video hai su di me? E su di me! Arecchi, ok? E finché non troverete un modo per rendermi visibile, posterò altri imbarazzanti video di voi due... ogni singola ora! Ah, sì? Allora, ti darò un pugno in gola ogni singolo secondo! Ah! Mancato! Schwartz, e sta più attento! Questo pavimento è freddo! Scusate, ragazzi, devo usare il bagno, poi ho degli impegni per cena! Ehi, lì non c'è nessun bagno! Oh, ho sparso pipì invisibile dappertutto! Su per il tubo! No, ha scappato! Ah, se ne è andato! Ah, dimentichiamoci di lui! Dimenticarcene? Ha detto che ci ha seguiti per un anno segretamente, riprendendoci senza che ce ne accorgessimo! Ah, che se ne importa! Coraggio, prendiamo un affogato alla root beer! Sì, è una buona idea! Due affogati alla root beer e un cetriolino! Grazie! Grazie mille! Di nulla, Capitan Man! Io ho visto il suo brufolo sul sedere! Farisci! Ah, l'invisibile Brad! Chissà che razza di video imbarazzanti ha su di noi! Potrebbe pubblicarli ognuna! Guarda, c'è un altro video imbarazzante di Kid Danger e Capitan Man! Accidenti! Oh no, un altro! Chissiamo, forza elefante, vieni con noi! Ok, Capitan Man, tu mettiti dietro e io mi metto di fronte a lui! Oh, mamma! È quando abbiamo riportato l'elefante fuggitivo allo zoo! Oh, no! Coraggio, signore elefante! Devi tornare allo zoo! Eh, muoviti! Non vuoi tornare lì dentro e rivedere a tua moglie? Eh, toglimelo di nasso! Toglimelo di nasso! Ehi, elefante è cattivo! Elefante è cattivo! No, ma sono... Io torno a casa. Io prendo il cetriolo. Ciao, mamma. Ciao, papà. Sono a casa. Molto bene. Sei in tempo per il prosciutto. Ehi, attenzione! Ehi, indovinate! Odio indovinare. Quel tizio ha pubblicato un altro video di Kid Danger e Capitan Man. L'ha fatto? Sul serio? Oh, fallo partire! Sì, sì, vediamo questo video. No, no, non adesso. È ora di cena. Invece no! Canto è usciutto! Va bene. Clicca sul video. Allora, come sto guidando? Oh, molto bene. Sono sicura che otterrai la patente. Wow, sarebbe fantastico. Sì, sarebbe fantastico. Adesso gira a sinistra appena arriviamo... Giro a sinistra! Aspetta, non adesso! Mi dispiace! Mi dispiace! Oh, picchi dici gatti! Oh, picchi dici! Oh! Grazie a tutti.